Anticipazioni Beautiful. Martedì, 16 febbraio, 2021. Ridge, incrocia Shauna, e non esita a metterla al corrente delle ultime novità. E, molto dispiaciuto di non poter aiutare il figlio, nonché allontanarlo definitivamente, dalla cattiva influenza delle Logan. Shauna, non riesce a credere che proprio Ridge, parli in questo modo di Brooke, ed Hope. Lo stilista, precisa di aver posto fine al suo matrimonio, in quanto la donna che ha sposato, non è più quella di una volta. Brooke, sarà per sempre il suo unico amore, ma non poteva continuare a farsi calpestare così. Shauna, non nasconde di sentirsi profondamente a disagio. Gli ha promesso di essere un'amica presente, ma adesso, c'è dell'altro. Sente di provare qualcosa di forte. Vorrebbe viverlo, frequentarlo. Per questo motivo, dice che si farà da parte. Solo in questo modo, stando da solo, potrà tirare le somme. Ridge, la ferma, lei, rappresenta i suoi momenti di leggerezza, quelli che non riesce più a vivere, da tempo, con Brooke. Così, le propone di distrarsi, e di divertirsi, insieme a lui. Quindi, inizia a baciarla dolcemente. La Fulton, al settimo cielo, ricambia. Ciao!